Allora, questo è un giudice all'esito dell'esigenza preliminare, il solo articolo 429 codice di procedura penale, il via giudizio per le imputazioni loro rispettivamente asserisce dalla richiesta del mio giudizio, Bagarello di Luca Piaggio, Rusca Zorani, Ciancimino Massi, Cina Antonino, Tedomolo Giuseppe, Dell'Utri Marcello, Mancino Nicola, Mori Magno, Rina Salvatore e Sovrani Antonio. Vorrei leggere un attimo un inciso. Ritenuto che non sussistono i presupposti perché si è volutato la sentenza dell'uomo al processo, ritenuto che il confioso materiale probatorio a sostegno della richiesta del mio giudizio, formato dai politici ministeri, oltre 70 tazzoni a cui si sono raggiunte le protezioni dentro a preliminare, in quel numero di pagine in assi di superare 300.000 pagine e quello, il materiale acquisito con la indiesa del mio giudizio nel corso di indiesa criminale non è pervenuto al giudice, ordinato per indice, dei temi principali del processo o per singole protezioni processuali, ossia in maniera tale da entrare intelligibile eventuali chiami per relazioni, con i senti dei reti che ci sono dei giudizi, è venuto altronde che la memoria scritta dal primo ministero è costata in corso di indiesa criminale di indiesa criminale, non ha fatto l'idea delle fonti di prova a sostegno della richiesta del mio giudizio su diversi punti della piattaforma causatoria e di differenze e di differenze consensuali, limitandosi asserenti affermazioni sulla finalità e sugli approfondi dell'inchiesta della tutta la presenza del procedimento che ha dato alcune annotazioni sulle questioni di competenza territoriale per materia, rilevato sulla base dell'articolo 429,1, lettera D, di giudice, quindi è vero che rispone il giudizio delle nuove indicazioni sommarie delle fonti di prova e dei fatti in cui adesso si riferiscono fonti destinate al valore di battimentale, sulla costruzione dei passaggi fattuali, su cui si articola l'idea accusatoria e sull'attività delle stesse anche attraverso il messo del contraddittorio, che tale onere nel caso di specie, a parere del giudizio, non volirsi assorto da un genetico rinvio, dalle scarpe indicazioni della richiesta dell'intervistica anche alla luce, dei temi complessi sottesi alle limitazioni, peraltro sviluppati in modo approfondito da tutte le parti, in sede di discussione esattiva al 431, a partire dalla pubblica accusa, per questi motivi c'è un decreto con un'indicazione di scomposizione dei fatti e indicazione analitica delle fonti di prova, che sarà ovviamente la situazione delle parti. Il contenuto del fascicolo del dibattimento, perché quando abbiamo con un cuore fascicolo, ai sensi dell'articolo 432, poi c'è un discurso grafenale, in cui vanno inseriti i fatti di atti non impegnibili che riguardano le dichiarazioni di Oscar Puglisca, Rodolfo Stavronosio, Vito Cercimino, Cangeli Salvatore. I fatti di sequenzo del 18 gennaio 2007 a Caglio di Sassmini Giovanni. I fatti di sequenzo del 17 febbraio a Caglio di Sassmini Giovanni. I fatti di sequenzo del 17 febbraio a Caglio di Sassmini Giovanni. I fatti di sequenzo del 17 febbraio a Caglio di Sassmini Giovanni.